Sono presenti in Sud America, in Africa e in Europa le piccole suore della Sacra Famiglia. I loro fondatori, il Beato Nascimbeni e la Beata Mantovani, riposano nella casa dell'Istituto, a Castelletto di Brenzone, sul lago di Garda, dove ci sono anche le scuole e una struttura di accoglienza delle suore, che hanno come carisma quello dell'educazione e della vicinanza alle persone malate. Due movimenti del cuore ci animano in questa ricorrenza giubilare. Il primo movimento del cuore è senz'altro quello della gratitudine, dello stupore per le opere e la storia che il Signore ha condotto, per l'apertura che sta dando a questo carisma, soprattutto ai laici. Veniamo un po' meno noi per l'età anagrafica, ma vediamo un rifiorire di attenzione e di interesse da parte dei laici attorno al nostro carisma. Il secondo movimento del cuore è senz'altro quello di un desiderio di rinnovata fedeltà. Appunto il 6 novembre sarà lunedì prossimo la data storica proprio in cui ricorrerà il 125esimo dell'Istituto, nato appunto nel 1892 per ispirazione e dono dello spirito al Beato Giuseppe Nascimbeni e alla cofondatrice, la prima piccola sola che ha risposto e corrisposto al dono dello spirito, la Beata Madre Maria Domenica Mantovani. Qual è lo spirito e il carisma del vostro istituto? Allora il fondatore ci ha volute tutte ispirate al mistero della Sacra Famiglia di Nazare, di fatti ci chiamiamo piccole suore della Sacra Famiglia. Era parroco di questo piccolo paese, allora Casteletto di Brenzone, che contava poche centinaia di persone. Il suo zelo di pastore, veramente uno zelo pastorale, l'ha portato ad aprirsi anzitutto alle necessità della famiglia. Dopo aver vissuto vari momenti d'incontro nell'anno giubilare, l'ultimo sabato scorso con la presenza di 200 laici, il prossimo fine settimana le suore vivranno un momento di chiusura dell'anno dai 125 anni di fondazione. Domenica alle 11 la messa con il vescovo in parrocchia e il 6, data esatta dell'anniversario, il ricordo nelle comunità. Sabato questo prossimo, sabato 4 novembre, che ricorda tra l'altro il giubileo della prima professione delle prime quattro suore, quindi a Verona, presso il monastero di Via Provolo, quindi è pure una data importante. Sarà una giornata dedicata a noi piccole suore, quindi converranno qui a Casteletto dalle varie case filiali le piccole suore, per una giornata di spiritualità guidata dal nostro vicario generale, Monsignor Campostrini. La sera poi invece per tutta anche la popolazione un concerto offerto dal corpo bandistico qui di Casteletto, che pure ha la storia legata al nostro istituto, al padre del nostro fondatore, al papà. Domenica invece il culmine è vero e proprio con la presenza del vescovo, su eccellenza Monsignor Zenti, qui a Casteletto, nella parrocchia che è stata la parrocchia del fondatore, Beato Nascimbeni. E quindi anche lì avremo la presenza di tutti i parrocchiani, nella chiesa proprio dove ha operato. E' la terra che ha dato il seme, è nato qui e si è sviluppato e germogliato da questa parrocchia per tanti ambiti.